per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori andiamo in francia e andiamo a parigi buongiorno tiziana armaroli buongiorno buongiorno a tutti allora ci racconta un po come arrivata a parigi armaroli a parigi ci sono arrivato ormai più di vent'anni fa e ci sono arrivata un po un po per caso nel senso che ho avuto trovato una borsa di studio però per un anno all'università e poi dopo ho avuto l'occasione di rimanere di trovare di trovare un posto di lavoro e quindi invece di rientrare in italia come avevo come avevo previsto inizialmente alla fine sono rimasta senta come si vive a parigi e poi arriviamo anche a parlare insomma di questo periodo appena terminato di olimpiadi insomma credo molto complesso per chi poi insomma vive si deve spostare quotidianamente ma allora oggi oggi parigi è tornata alla normalità adesso anche le bandiere dei giochi olimpici sono state tolte sotto casa mia c'era un enorme parcheggio per le biciclette che è stato smantellato quindi si può dire che adesso la vita ha ripreso il suo corso normale e quello che posso dire che durante le olimpiadi alla fine avevamo molti timori noi diciamo parigini rispetto alle difficoltà di trasporto di spostamento di masse di turisti che sarebbero che avrebbero invaso la città e invece devo dire che è andato tutto molto bene meglio diciamo dei timori assolutamente assolutamente bisogna anche dire che i parigi molti parigini avevano lasciato parigi quindi era insomma poi erano anche periodo estivo quindi delle vacanze ma sinceramente nessuno se l'aspettava a essere sincero male ogni tanto che insomma sia qualcosa di positivo diciamo e non di negativo senta normalmente invece quali sono diciamo le aspetti che l'hanno fatta innamorare diciamo di parigi ma anche quelle che possono essere un po le criticità di una città così grande beh allora quello che mi è piaciuto di parigi è il fatto che sia piccola nel senso che tutto sommato il centro è abbastanza concentrato però è molto varia nel senso che ogni quartiere ha le sue caratteristiche le sue particolarità e poi una città estremamente viva dal punto di vista culturale con un'offerta incredibile e quindi criticità nel senso che comunque sia una grande città dove la vita va in mille all'ora per cui è un po stressante e ovviamente poi anche una città molto cara ecco questo bisogna riconoscerlo lo è sempre di più direi di sì direi di sì che lo è sempre di più e penso che soprattutto per esempio per abitare per una casa in affitto oppure per acquistare una casa e sta diventando veramente sempre sempre più costosa e mentre quando sono arrivata a parigi c'erano comunque dei quartieri che essendo più popolari erano diciamo più abbordabili per diciamo un certo medio adesso sta diventando sta diventando sempre più complicato quindi non è solo diciamo il centro i quartieri quelli diciamo più residenziali ma è diffuso questo aumento dei prezzi diciamo per quanto riguarda la casa direi di sì diciamo che consideriamo parigi tutto quello che all'interno del periferico quindi di questo anello circolare che che lega la città e tutto ciò che all'interno è parigi e tutto ciò che all'interno del periferico diciamo che sta diventando sta diventando non dico che si sta omogeneizzando completamente ma ma comunque sia il trend è un po questo sente dopo tutti questi anni a parigi lei la Liguria come la vede la Liguria la Liguria sempre nel mio cuore cerco di tornarci più spesso che posso e ma chiaramente da qua non è non è così semplice quindi riesco a rientrare tre quattro volte all'anno ma ogni volta è l'occasione di riprendere energie fare il pieno di mare mare di sole e poi chiaramente ci sono gli amici c'è la famiglia e c'è la città di Genova da cui vengo che insomma che è sempre è casa mia ecco ecco la regia la fa vedere oggi insomma si sta alzando molto il vento quindi insomma una bella giornata insomma il vento ci sta un po pulendo il cielo questa mattina e quindi le la facciamo vedere senta non le ho chiesto in che ambito lavora lei allora io sono nell'ambito diciamo chimico e della della chimica del petrolio quindi ho lavorato quando sono arrivata in Francia lavoravo all'istituto francese del petrolio e poi da allora ho cambiato due società ma sempre nell'ambito diciamo dei servizi resi nel campo del petrolio quindi più raffinerie e petrolchimica senta qual è il suo posto del cuore a parigi quello che consiglia anche magari di vedere forse non è uno di quelli diciamo nel giro turistico però quello che secondo lei rappresenta proprio la sua parigi diciamo quello che a me piace tantissimo a parigi è lungo senna e lungo senna perché perché c'è l'acqua quindi non è il mare però un surrogato diciamo e poi perché permette di attraversare tutta parigi da est a ovest con una vista sui monumenti principali ma anche attraversando quartieri diversi e in particolare forse zone che sono un po meno conosciute che sono verso la Gardo Sterlitz e lo Giardin de Plante che sono zone forse dove i turisti vanno meno ma che sono molto come dire ricche e veramente dove si può si ci può rilassare e respirare e insomma poi le ultime ore dicono che anche per quanto riguarda il governo finalmente dovrebbe essere arrivata sta fumata bianca giusto pare pare vediamo che c'è la lista la lista è stata approvata che da qui a lunedì avremo un governo cosa che effettivamente per la Francia forse essere rimasti tre mesi senza governo diciamo che non me la sarei aspettata ecco dalla Francia è vero verissimo senta allora tiziana io la ringrazio come sempre facciamolo lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita e giuro e merci dell'intervista e giusto a tutto il mondo un excellent weekend e au revoir di pari au re merci a presto grazie tiziana armaroli in collegamento da parigi